Era circa mezzogiorno quando una donna disperata è scesa in strada sanguinante cercando aiuto. Ha incrociato un'auto e alla guida c'era per fortuna un medico che l'ha portato in ospedale. Una volta al pronto soccorso però la donna ferita ha riferito agli infermieri che in un appartamento di Arcole c'era un'altra donna ferita gravemente. Subito è partito un elicottero dell'elisoccorso che ha recuperato la donna. Ha una ferita al collo ed ha perso molto sangue. Ancora contorni misteriosi. L'aggressione avvenuta in questo appartamento di via Molinazzo. Potrebbe essere stato un agguato organizzato in piena regola ad accoltellare le due donne che sono in condizioni gravi ma non in pericolo di vita. Sarebbe stato infatti l'ex datore di lavoro, un broker finanziario che si è dato alla fuga. I carabinieri lo hanno trovato solo a tarda sera. A Castagnaro nella bassa veronese si è tolto la vita. L'uomo avrebbe dato un appuntamento alle due ex dipendenti per regolare delle pendenze economiche ma forse aveva già l'intenzione di ucciderle. Una delle due infatti è stata colpita più volte alla schiena, l'altra al collo. Le donne probabilmente hanno reagito. Una è riuscita a prendere la porta prima che l'aggressore completasse l'opera e a dare l'allarme.